Grave incidente nel pomeriggio per lo scontro tra un'auto e un trattore nella zona ad indicatore. Probabilmente durante una manovra di sorpasso per causa in corso di accertamento, l'automobile dopo l'urto è finita fuori strada finendo in un campo. La peggio è toccata al conducente del trattore, un uomo di 73 anni che è stato sbalzato fuori dal mezzo che si è in parte piegato su se stesso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi all'arrivo dei soccorritori che lo hanno stabilizzato e trasferito all'ospedale San Donato. Qui lo attendeva l'elisoccorso Pegaso che è la sua volta trasferito all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. Sul luogo dell'incidente, numerose pattuglie della Polizia Municipale a cui spetterà ricostruire la dinamica dell'impatto e i vigili del fuoco di Arezzo. Un incidente che ripropone anche la pericolosità di questo tratto di strada rettilineo.